I candidati del centro-sinistra alla presidenza dei municipi cittadini sono quattro avvocati e un poliziotto. In deroga ai principi della parità di genere e delle quote rosa, tra loro figura una sola donna, scelta non a caso ma per capacità e per merito. Si tratta di Micaela Paparella, candidata al municipio 1, che comprende i quartieri Madonnella, Torre Amare, Iapigia, Miurà, San Nicola e Libertà. De Caro a riguardo ha più volte richiamato non solo la necessità di un ricambio generazionale, ma il poter disporre di candidati con una buona esperienza amministrativa fortemente legati al territorio. Per la scelta dei candidati ai municipi cittadini, ha aggiunto De Caro, nessuno dei partiti ha voluto mettere proprie bandierine, in particolare Sinistra Ecologia e Libertà, che non ha espresso alcuna richiesta. Altrettanto chiaro il riferimento a quanto invece è accaduto nei giorni scorsi all'interno dello schieramento avversario. Unica eccezione, Realtà Italia, che ha ottenuto la candidatura di Andrea D'Ammacco al secondo municipio. Il presidente del movimento, Giacomo Olivieri, nel commentare il percorso intrapreso da Antonio De Caro per individuare i candidati alla guida dei municipi baresi, parla di scelta ricaduta su figure competenti, di comprovato spessore politico e culturale, come quella di D'Ammacco, giovane e brillante avvocato in corsa per la presidenza del municipio, che abbraccia i quartieri Picone, Poggio Franco, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca. Di lui Olivieri dice che sarà il presidente di tutti, grazie al suo forte impegno sociale profuso in questi anni di attività politica, prima alla circoscrizione e poi al comune. Toccherà poi al poliziotto Massimiliano Spizzico, di 37 anni, battere la concorrenza nel terzo municipio, che accorpa i quartieri San Paolo, San Girolamo, Stanic, Fesca, Villaggio del Lavoratore e Marconi. Nel quarto municipio De Caro si affida Nicola Acquaviva, politico di lungo corso, che cercherà di raccogliere voti nelle ex frazioni di Carbonara, Ceglie e Loseto. Infine, per la conquista del quinto municipio, Palese, Santo Spirito, Catino e San Pio, a dare battaglia sarà l'avvocato Gianni Moretti. Già vicepresidente di circoscrizione.